In queste settimane Giulia Salemi sta vivendo un momento importante per la propria carriera dato che insieme a Nicolò Dedevitis conduce Gifoni Music Concept al Gifoni Film Festival. Un ruolo di responsabilità, sto vivendo benissimo questo Gifoni 2022, ha dichiarato a Superguida TV, sono alla conduzione del Gifoni Music Concept con Nicolò Dedevitis. Ogni sera siamo sul palco a cercare di far divertire le persone. E, un ulteriore tassello che si aggiunge alla mia carriera al mio percorso di crescita. Sono contentissima, Gifoni ha un clima speciale, l'ambiente è speciale. Ci sono delle persone stupende e questo permette di lavorare in sintonia e in armonia. Sono proprio felice, l'anno scorso Giulia Salemi ha condotto per il portale Mediaset Infinity Salotto Salemi e l'esperimento è riuscito tant'è che la seconda edizione è stata promossa in TV. A settembre partiranno nuovi progetti, torna Salotto Salemi sulla 5 con un nuovo cast che non vedo l'ora di annunciare. Io lavoro ogni giorno per cercare di costruire il mio futuro. Faccio molta gavetta, non si scappa dalla gavetta. Se destino, man mano i miei sogni si realizzeranno. Non mi posso lamentare. Aspetto la mia opportunità. Nel frattempo studiamo e lavoriamo. Giulia Salemi parla dei prelemi e di un eventuale matrimonio con Pierpaolo Pretelli. Ovviamente non si è tirata indietro neanche quando ha dovuto parlare del suo fidanzato, il bel Pierpaolo Pretelli che ha conosciuto al grande fratello Vip. Il matrimonio perché no? Io odio fare progetti, vivo molto alla giornata. Il giorno che arriverà la proposta arriverà. Intanto ci viviamo l'oggi. Con i miei fan ho un rapporto stupendo, anzi un saluto a tutti, i prelemi, io vi amo lo sapete. Sono ormai una famiglia per me, anzi, ormai consolidata, sono quasi due anni. Con Pierra abbiamo un bellissimo rapporto di crescita costante. Giorno dopo giorno diventiamo sempre più complementari. Ci comprendiamo, ci amiamo sempre di più. Io poi non amo ostentare. Sono molto felice e molto innamorata.